buongiorno amici buongiorno amiche siamo qui con un mini box android in confezione troverete due cavi la manualistica abbastanza scarna come in poi in tutti i box e questo è il box non è grande vedete è molto sottile sotto c'è una buona dissipazione sopra la superficie zigrinata in modo tale da non da non trattenere le ditate c'è solo come vedete qui un led e l'inserimento il vano per inserire la micro sd basta non c'è non c'è altro comunque ripeto è belli è bellino da vedere è piccolo e ecco vedete con il cavo si va a collegare alla usb della mia auto può essere collegato sia la c che a quella usb normale in quanto lui qui a una usb c e andrà su una usb normale o su una usb c a seconda del cavo che utilizzerete andiamo vedete sulla sull'auto lui è collegato nel momento in cui l'ho inserito la il sistema multimediale della mia auto mi ha detto che era stato era stato collegato un sistema carplay in realtà io non sto utilizzando uno smartphone ios ma sto utilizzando uno smartphone android è un po' una prerogativa di tutti questi box utilizzare il modulo carplay per funzionare quindi a noi poco importa perché comunque in questo momento io sono collegato ad android auto wireless in modalità wireless con il mio smartphone android anche se la mia auto pensa è ingannata pensa di aver collegato uno smartphone ios iphone vedete maps funziona chiaramente sfrutta il gps dello smartphone perché questo box non ha un gps integrato non ha uno slot per la scheda dati e quindi devi utilizzare il gps dello smartphone e per la per la linea internet in questo momento usa quella dello smartphone perché io sono collegato in modalità android auto wireless e quindi sfrutta le applicazioni del le applicazioni la connessione dello smartphone e quindi vedete l'assistente vocale funziona non so perché non ha funzionato al primo tentativo o forse aveva risposto ma non l'ho sentito andiamo alle app vedete qui c'è la la nuova la nuova modalità di android di android auto quindi qui abbiamo maps e di qua abbiamo spotify vediamo un attimo vedete è piccolino non ci sono non ci sono problemi andiamo un attimo alle altre applicazioni sono passato a spotify a schermo intero e chiaramente si sente bene andiamo un po al succo quello che è il vero e proprio box vedete con questo widget io posso tornare alla home questa è la home del del box vedete non ci sono molte icone questa per fare le telefonate quando non è attivo android auto quindi le fate da qui con il bluetooth del vostro telefono qui è per tornare al menu dell'automobile qui è per ascoltare la musica o riproduzioni comunque varie in background sul vostro smartphone potete abbassiamo il volume potete ascoltarle anche quando siete in auto i settaggi ulteriori del box l'accesso a carplay wireless android auto wireless la galleria foto e video il play store youtube il l'applicazione per la gestione dei file netflix e vlc io in questo momento ho inserito qua una scheda sd con canzoni e dei video andiamo a vedere se li riproduce andiamo andiamo a vedere dentro non so video 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 eccolo qua un video tra le altre cose questo credo fosse in 4k vedete è partito subito e si vede fluido e si sente bene non a scatti quindi buona la riproduzione dei video ripeto era un video ad alta ad alta risoluzione andiamo invece ad esempio a vedere se la musica viene riprodotta audio eccola era partita e si sente subito nelle casse dell'automobile torniamo alla schermata principale perché in questo momento io non posso farvi vedere youtube o netflix perché in questo momento la wifi è occupata da android auto wireless quindi dovrei uscire da android auto wireless per poter ristrofruire sia di youtube in movimento che di netflix e che di e di tutte le altre app che voi potete installare da da qua e quindi questo diciamo lo dovete tenere in conto quindi quando non siete collegate ad android auto potete collegare il box o a via tethering al vostro smartphone o comunque ad una wifi esterna ad una fonte di dati esterna quando siete collegati al allo smartphone via android auto wireless è come se foste collegati via cavo ad android auto wireless e quindi non avete nessuna nessuna problematica come vi dicevo qua ci sono i settaggi c'è una prima schermata di settaggi semplificati poi però se andate qui entriamo nella classico nel classico menu dei box android vedete in italiano perché io ho settato la lingua italiana quindi vi dovrei far vedere che c'è un processore snapdragon è questo qui però ci sono solo 2 gigabyte di ram 16 gigabyte di memoria interna e 11 la versione di android quindi un po vecchiotta questi box si assomigliano un po tutti e le conclusioni sono un po sempre le stesse dipende dal prezzo a cui lo trovate questo box viene venduto sul sito che vi linkerò a 140 150 dollari che secondo me è troppo il suo giusto prezzo è sui 90 dollari perché con 150 voi trovate dei box che hanno il gps integrato e hanno uno slot per la per la sim dati quindi diciamo che non è bocciato ma è rimandato a quando il suo prezzo calerà magari con un coupon oppure magari proprio grazie a uno sconto nel nel sito che vi che vi linkerò se ci sono domande le potete fare nel box dei commenti saluto pasqui che ci ospita nel suo bellissimo canale e ci vediamo al prossimo video